ne facciamo una a caso? ne facciamo una stimola due due veloce lo so aia dai vabbè vabbè aia cute st sta molto piccolo st 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 come facciamo? fai tutto e quante questi sono gli sfondi che tu puoi scegliere che carini questi qua sono carini per noi due dai questo qua la 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 Grazie a tutti. 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 No, next photo. No? Qual è? Eh sì, non lo so. Eccolo, eh, fai quell'altro. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ho fatto un ex-poto di Nipang E' pare, non lo so Oddio, guarda qua Adesso freehand Vabbè qua è già pieno di cose Ok dovrebbe essere finito Ok dovrebbe essere finito Ok dovrebbe essere finito Ah selezioniamo Se no io direi tipo Ah fermo Ah quello di prima era carino Ok dovrebbe essere finito Ok dovrebbe essere finito Ok dovrebbe essere finito Sì Aspetta Ok dovrebbe essere finito Ok dovrebbe essere finito No No dove arriva Ok 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 Grazie a tutti